La provincia di Agrigento è in piena crisi igienico-sanitaria. A Campobello di Licata il sindaco Giovanni Picconi ha chiuso le scuole per via dei cumuli di rifiuti. Lezioni sospese perché spiega il primo cittadino la discarica di Siculiana ha chiuso i cancelli e il presidente della regione Nello Musumeci non ha comunicato dove possiamo scaricare. Ma non è il solo comune in ginocchio. A Canicattipi i romani hanno ben pensato di dar fuoco ai cassonetti, generando diossina che commenta l'assessore cittadino a ramo Roberto Vella può provocare tumori. A Sciacca non è stato ritirato l'indifferenziato che continua a far bella mostra di sé sotto i 30 e più grati della località barneale. A Licata i turisti scappano, nel vero senso della parola. Un gruppo di persone voleva girare le vie del centro, magari fare shopping e mangiare un gelato. Una cosa impossibile da fare con il puzzo dell'immondizia che invade ogni strada. Appena scesi dal mezzo che li aveva portati in centro hanno fatto dietro fronte e sono ritornati in albergo. Ad Aragone il porto a porto è stato interrotto dal sindaco Ghetano Pendolino e questo sempre in attesa di nuove disposizioni su dove poter conferire. Scontati disagi le lamentele da parte degli abitanti costretti a tenere la spazzatura in casa. Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti a Real Monte dove fioccano le multe, contro chi lascia i sacchetti in strada. Stessa crisi a Porto Empedocle dove oggi Netturbini hanno anche incrociato le braccia. Uno sciopero arbitrario. I lavoratori sono esasperati dal mancato pagamento degli stipendi. Anche gli operatori di Agrigento hanno annunciato lo sciopero. Sempre nel capoluogo numerose segnalazioni di serpenti, ma ucciderli è reato e assicurano che non siano pericolosi per l'uomo. L'unico aspetto positivo è che potrebbero provvedere ad una naturale derattizzazione. Lamentele arrivano dei cittadini sulla presenza delle zanzare in città. La zona balneare di San Leone è invasa da degrado in Curia. Per questo i cittadini hanno annunciato un sit-in in piazza Municipio. L'unica cosa a funzionare sono le strisce blu, i posteggi a pagamento. E non si capisce cosa ci sia da pagare. Il comune di Agrigento annuncia anche il pugno duro contro le grandi utenze, carcere, ospedale, supermercati e mercato ortofrutticolo. O faranno correttamente la differenziata oppure Palazzo dei Giganti gli addebiterà il costo dello smaltimento in bolletta. Buone notizie per gli esercizi commerciali di Agrigento. Per loro è previsto un potenziamento. La raccolta dell'umido prodotto dagli esercizi commerciali della zona balneare e delle location turistiche della città avverrà tutti i giorni. Tre volte la settimana ci sarà la raccolta dei pannoloni e pannolini. Duro l'attacco del PD provinciale sulla raccolta non espletata nell'intera provincia. La responsabilità, scrive il partito DEM, va addebitata a un governo regionale inadeguato e incapace di far fronte non ad un evento improvviso ma ad una situazione assolutamente prevedibile. Un'emergenza evitabile che ricadrà sulle tasche dei cittadini. Ed ancora si legge nella nota la causa e la mancata richiesta in tempo utile di una proroga al governo nazionale che consentisse a 66 comuni siciliani di continuare a confinire nella discarica di Siculiana Catanzaro.